... Fallo prontamente fischiato dall'arbitro, lontano, che finora si è dimostrato energico, deciso, preciso nei suoi interventi. Toscano e De Marco sul pallone, si allontano Toscano, lasciando il compito di battere questo calcio di pulizione al compagno De Marchi. Controlla i suoi compagni in aria, De Marco, in corsa, cross, concertato bene ed è il primo gol, primo gol rosso-nero di quest'annata. Ottima l'azione concertata, passaggio di De Marco per il numero 10 Vitullo, che con un pallone, non si può dire se è studiato o sbucciato, Comunque sia il pallone batta alla faccia interna del palo, inganna il portiere Borriello e porta in vantaggio la Palmese. Cerca la collaborazione di Assunto, ancora in affondo, ma è l'intervento deciso, energico e preciso del numero 5 Angieri a smarcare con un ottimo pallone. Nappi che se ne va in affondo ed è il secondo, veramente magnifica, questa azione dei rossoneri palmesi. Pallone che dalla difesa è passata al numero 10 Vitullo, il quale con un lancio preciso e millimetrico ha messo in movimento il proprio compagno di squadra Nappi Aniello che in velocità ha bevuto il suo avversario e con un diagonale ha fatto e ha resovano l'intervento del portiere Borriello. 2-0 per la Palmese, gol veramente bello, applaudito dai 150 tifosi rossoneri. A termine della gara ci incontriamo adesso con il direttore generale signor Lamarca della Palmese. Un'ottima gara, è la prima presentazione, quindi un primo impatto. Ma il primo impatto penso che sia stato positivo, cioè diciamo che il nostro scopo è quello di far ritornare il pubblico a Palma. Abbiamo costruito assieme all'amico Filippo Carrella una squadra molto giovane con una media di 22-23 anni cercando di migliorare quelle che è. La prima partita mi sembra che sia andata bene e il pubblico abbia risposto con entusiasmo. Che cosa ci aspettiamo? Ma ci aspettiamo quello di migliorare, abbiamo qualche colpo a sorpresi ancora da poter fare, abbiamo nell'organica di oggi mancava qualche pedino importante perché è squalificato e ci saranno qualche sorpresa da qua al 25 sicuramente, qualche altro colpo sicuramente. Abbiamo detto ragazzi giovani, quindi una squadra giovane, quindi questo colpo a sorpresa riguarda l'età o riguarda l'esperienza? No, riguarda tutte e due le cose diciamo, però qualche calciatore che ci faccia fare un salto di qualità. Direttore, allora noi andiamo per gradi oppure facciamo qualche salto? Ma noi cerchiamo di procedere per gradi perché, ti ripeto, siamo all'amico Filippo Carrella, ci siamo in posto di andare gradatamente senza fare il passo lungo, cercare di migliorare partita dopo partita e cercare di individuare quei punti deboli, quei nei, dove riuscire a intervenire e far migliorare la squadra. Poi tutto ciò che avviene, diciamo, è bene, accetto. Oggi abbiamo guardato più il risultato o la prestazione? Ma io, in cor mio, più il risultato perché ci tenevo a presentare al pubblico di Palma a partire con una prima gara ufficiale, anche se trattasi dei coppitali, partire con una vittoria. Serviva da morare ai ragazzi, ma serviva soprattutto di morare a noi, società, di far sì che stare sempre appresso a questi ragazzi e farli migliorare ogni giorno e di più. Allora, se il buongiorno si vede la mattina. Questo è un buonissimo giorno. Grazie, grazie, grazie. Una bella giornata di sole, ma innanzitutto una bella vittoria. Come prima partita ufficiale siamo soddisfattissimi anche perché la squadra avversaria era una squadra che mirita nell'eccellenza, quindi superiore alla nostra categoria. Potevamo fare pure qualche gol in più. Io personalmente sono molto soddisfatto. Sono le prime partite, bisogna ancora migliorare. Qual è l'obiettivo della squadra, l'obiettivo della società? L'obiettivo della società è fare un campionato per divertirci, di giovani, come avete visto, l'età media, mi sembra che siamo intorno ai 19 anni, quindi ci divertiamo. Cerchiamo di portare le persone allo stadio, che come da tanti anni non veniva più. E basta. Vogliamo risvegliare un po' con l'industria del mondo di prima, ripercorrere un po' con quello che è stato il cammino della vecchia Palmese, rifondarla e magari ci siamo ripresi il campo di gioco, ci siamo ripresi la vecchia sede, dobbiamo riprenderci adesso i trofei e gli allori di una volta. Cerchiamo di fare quello che possiamo, nel minimo, e divertirci. La prima cosa è divertirci. Se i ragazzi ci seguono, io gliel'ho detto prima, loro hanno un impegno di vestire questa maglia che ha una tradizione e una storia, come il calcio che c'è stato sempre a palco. I ragazzi hanno risposto bene come prima partita, poi vediamo, si vede dopo che succede. Quindi abbiamo visto entusiasmo in campo da parte dei giocatori, entusiasmo sugli sparti da parte dei tifosi, entusiasmo da parte dei dirigenti pronti a mettere mano al portafoglio, nel caso, come ci diceva il direttore, servisse qualche altra petina. Quindi stiamo sulla buona strada. Quello che serve, man mano vediamo, iniziamo così, poi man mano il campionato inizia sabato, stiamo a vedere come si va, quello che poi serve man mano, che cerchiamo di aggiustarlo. Sabato il primo incontro qui a Palma Gambani con il Vallo di Rava. Un appello, Presidente? Cerchiamo di richiamare un po' il paese, cerchiamo di fare una presentazione in settimana della squadra in piazza, che la sede sarà di nuovo in piazza di Martino, e quindi cerchiamo di portare di nuovo tutti quanti al campo, sperando che sia così. Sperando che un'altra volta la Palmese, con la sua bandiera, riesca a salire sul più alto pennone, sia del campo che quella della sede che è rimasta, quella storica, e quindi la storia continua. Ecco, va bene. Grazie. Ciao. Ciao.